Allora il cacereco di partenza dalla Lettonia, Helmeier, Richard del Tongo, croce, cambroso, Caiolli, Matteo e l'annuncio della Lettonia, e allora finito, il finito inizio a Toraco, al comando, in primisato, e Marco, e ora che va in tendo, a 306, al comando, davanti a Lettonia, Richard, Helmeier, e poi ancora alloggiato con Masco con il topoce, e in quarta posizione con il topoce, Helmeier, e poi ancora Marco, e il Tongo!